1947. Dopo la seconda guerra mondiale, 23 nazioni firmarono un accordo su tariffe e commercio, il GATT. L'obiettivo era quello di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale, la stabilità ed un senso di comunità globale. Il GATT era la chiave. Nei successivi 50 anni il GATT è cresciuto e ha gettato le basi per una nuova organizzazione per il commercio mondiale, il WTO. Stiamo scrivendo le regole per una nuova economia globale. Con 150 paesi aderenti, il WTO controlla il 90% del mercato mondiale. A differenza del GATT, il WTO può imporre delle sanzioni ai paesi membri che violano le sue regole. Insieme all'allargamento del libero commercio, il WTO si propone di aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi in esso. Ha poco a che fare con il commercio e di certo non è libero. È un sistema di controllo globale per il quale nessuno ha votato e che nessuno controlla. Significa solo abbattere le frontiere degli stati. Così che le multinazionali possano operare liberamente ovunque, senza interferenze dei governi e della pubblica opinione. Quello che ne scaturisce è che il valore del denaro prevale sul valore della vita e che i diritti umani e la salvaguardia dell'ambiente sono subordinati alle necessità del commercio. Il WTO impone la sua volontà ai governi. Aria pulita, regole violate, casi di asma in aumento. Cibi geneticamente modificati introdotti in Europa. I piccoli produttori di banane schiacciati dalle multinazionali. Nonostante i problemi e le critiche, il WTO continua a crescere e ad aumentare il suo potere. Alla conferenza di Seattle, il Millennium Round, il WTO discuterà nuove norme commerciali. Imponendo un più stretto controllo delle industrie nell'ambito della nostra vita. Per molti, questa conferenza rappresenta una battaglia per il futuro. Merda! A posto! Hai controllato tutto? Lui è in difficoltà! Merda! Arrivo! Molla la corda! Vengo a prenderti! Ok, ci sono! Non sono un granché come rimpiazza, giusto? No! Ma tu sei più carina! Ehi, non fare lo sbruffone! Avrei dovuto ricontrollare l'attrezzatura! Non ero mai finita a testa in giù! Per questo bisogna essere un po' pazzi per accettare questi lavoretti! Ok, aspetta il mio segnale prima di muoverti! Ciao, mi chiamo Lou! Oh, Jay! Sbrighiamoci, altrimenti faremo colazione in prigione! Non conto di farmi arrestare, almeno fino a domani! Stai attento! Stai attento! Vai! Bene così! Perfetto! 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 Perfetto!